Ho avuto un inizio di stagione un po' difficile per un po' di problemi, prima di influenza poi ai denti e adesso la settimana scorsa e comunque appena dopo delle prime due tappe pian pianino ho iniziato a sentirmi sempre meglio. La settimana scorsa stavo veramente bene, poi sono venuto qua, i primi giorni forse il mangiare o così ho tribulato un attimo a livello di stomaco ma adesso mi sento bene, sento che la gamba c'è e sicuramente sono fiducioso per quel che riguarda i mondiali. I mondiali sono l'appuntamento clou per noi, ogni due anni si cerca di arrivare al massimo della forma, io spero di riuscire a farla crescere ancora un attimo in questi 15 giorni che mancano e spero di arrivarla soprattutto motivato perché so che il fisico e la gamba c'è, quindi speriamo solo che vada tutto liscio.